rispetto a più di un'ora fa e 600 metri di dislivello sembra un altro giorno condizioni meteo completamente diverse quelle che ho trovato stamattina quando sono partito effettivamente metterò questa parte del video all'inizio del video che farò su youtube che caricherò su youtube dell'attivazione sotto taglio economia 309 perché perché mi è andata bene che per sbaglio mi sono portata dietro questa giacchina detto tanto non mi serve c'è un antivento leggero mi basta quello per sbaglio portati i guanti non servono i guanti si sta bene qui ci saranno 16 17 gradi poco ventoso no servono c'erano degli indizi che da geologo dovevo leggere attentamente tutto il crinale a confine con l'emilia emilia liguria e emilia toscana ha una bella coltre nuvolosa quindi vuol dire che abbiamo aria abbiamo correnti cariche di umidità che salendo e arrivando lungo la linea di crinale condensano e fanno nubi poi sono anche fredde perché su era meno 3.7 ma leggero di poco con grande gioia è tutta cosa che si impara e si mette nel bagaglio dell'esperienza che non è altro che una somma d'errore l'attivazione è stata fatta mi dispiace che volevo fare anche la banda dei 20 metri ma ho terminato sia per il freddo ma anche perché in 40 metri incominciavano i soliti simpaticoni con i modi digitali e allora basta adesso cerco di riprendermi un attimo metto in moto il trattore e vado a trovare un posto per mangiare che sono quasi le 2 73 dai tagli a 2 il 4 victor che bexia da vinco quasi sempre è quasi che mi frega allora buongiorno da italia 0 4 victor che bexia da vinco quasi sempre è il quasi che mi frega parcheggiato il trattore località monti e saliamo verso cima sotto a montepelli piano piano dunque oi mela grosso modo siamo a metà strada già fatto i primi 250 metri di dislivello su due chilometri c'è caldo però la strada è sempre in salita e sorprende per la stagione perché sostanzialmente oltre alla metà di febbraio qui non c'è più di neve che siamo siamo circa mille e due appena sopra mille e duecento metri di quota è vero che è esposto a sud ma un po di neve dovrebbe esserci ok siamo arrivati sul crinale gli ultimi 200 metri lassù c'è un po di neve è patocca le temperature sono sono sopra lo zero c'è anche caso che su questa nebbia ci credo poco è ma ormai ci siamo che ci sarà claudio preoccupato ok siamo in cima questa è la croce del monte pelpi mi metto mi metto lì dove c'è quella pianta e mi riparo un po dal vento allora ok mi sono messo leggermente sotto la vetta piacerebbe sapere che cazzo riprendo così vabbè forse meglio dicevo mi sono messo appena sotto la vetta e cerchiamo così e così mettiamo l'antenna cerchiamo un po' una frequenza medica in libera frequenza in uso o frequenza in uso la frequenza in uso sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu for victoria quebec sierra sicu sota allora imola bologna avanti buongiorno sierra 57 india lima foxtrot 59 qsl italia udine 4 oscar sierra x ray qsl 9 alfa 7 papa papa mike 59 qsl 50 to summit over ok qsl summit to summit from italy novembre 3 alfa delta florida portavol ciao alessandro roger roger italia norvegia 3 alfa delta florida 59 referenza italia e coromio 309 qsl roger 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 ricevo italy alfa alfa 149 grazie ciao 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 roger italia zulu 1 giuliet chilo hotel 59 più più eh italia chilo 2 como napoli como italia chilo 2 como napoli como qsl 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 59 reali a te cambio oscar eco 6 sierra tango delta very good morning to you signal report 5 at 5 qsl oscar eco 6 sierra tango delta 59 of your report thank you my friend 73 qsl 5 juliet lima foxtrot allora attenzione stazione italia zulu 5 giuliet lima foxtrot 5 9 più più qsl ciao grazie di 5 più più anche per te 5 più 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 eh che c'era il segnale questa mattina ciao alessandro buoni si grazie a 4 italia zulu Italia 4 Italia Sardegna Zulu Italia 4 oscar mike delta oh italia 4 oscar mike delta avanti ciao alessandro da angelo 5 9 rapporto con te italia zulu 5 charlie mike charlie italia zulu 5 charlie mike charlie sierra papa 6 sierra papa 6 sierra papa 6 chilo eco papa roger sierra 8 delta francia oscaris sierra 8 delta francia ontario sierra 8 ok italia zulu 8 scusa mi son messi i guanti avanti italia zulu 8 Italia zulu 8 delta francia oscar domodossola vivence ontario l'economia i guanni ciliei l'economia cuore ciliei 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 9 qsl italia rischi 3 al frontario roger italia whisky 3 alfa golf ontario 59 qsl europa europa in the call roger italia norvegia 3 papa eco eco 59 qsl mike india india qrp avanti allora ci ho copiato bene italia zulu 0 mike italia italia qsl ciao 73 qr z allora stazione qrp avanti allora sento una stazione qrp vediamo di tirarti fuori avanti allora italia zulu 1 papa mike sierra corretto ok italia zulu 1 papa mike sierra 55 56 tuo rapporto quando sparisce un pochettino qrm e passi ti ringrazio attivazione sotto italia eco romeo 309 grazie ancora e buon fine settimana